Resta alta la preoccupazione dei cittadini di Piazzola sul Brenta dopo l'incendio che intorno alle 4 di sabato notte ha distrutto 8 autobus di Bus Italia parcheggiati nel deposito. Le indagini continuano, la pista più accreditata resta quella di un rogo accidentale causato dal cortocircuito di una batteria. Ingentissimo il danno superiore ai 2 milioni di euro. Tre degli autobus distrutti infatti erano nuovi euro 6. Grande la preoccupazione dei sindacati, la Filt CGL di Padova invoca al più presto l'attivazione di un servizio di sorveglianza. L'incendio, sottolinea il sindacato, non aiuta sicuramente la società in questo momento così delicato.